Assessore Roberti, il DDL sulla riforma degli enti locali è stato presentato nelle sue linee principali a Lanci, in Cassa Unsi. La novità principale sono le comunità al posto delle UTI. Intanto devo ringraziare i sindaci e Lanci per aver organizzato questo incontro. Stiamo andando avanti sulla strada della condivisione totale, vogliamo quindi presentare già in giunta per l'approvazione preliminare un testo che sia ampiamente condiviso, almeno nelle linee di principio. Poi siamo disponibili a modificarlo anche in corso d'opera, ma a me importava che le linee di principio fossero ben chiare. E su questo l'indicazione dei sindaci è stata ben chiara, nel senso che si va nella direzione giusta, ovvero quello di prendere degli istituti giuridici che già ci sono per l'organizzazione degli enti locali, aggiungerne di nuovi in sostituzione delle UTI, prendendo la parte buona delle UTI e togliendo via tutto quello che non andava bene. Quindi saranno delle comunità che sono facoltative, uno potrà decidere, un comune potrà decidere di aderirvi o meno, e potrà decidere di aderirvi con le funzioni che desidera. Non ci saranno delle imposizioni da parte della regione su determinati territori, quindi basteranno due o più comuni con termini per fondare una comunità. E anche sulla governance ci sono tante novità, perché pensiamo che sia giusto intervenire anche da quel punto di vista, in modo che chi si occupa di una comunità non pensi al suo comune, ma pensi a un territorio molto più ampio e si dedichi esclusivamente a un territorio molto più ampio. Anche qui sulla governance, se dei comuni decidono di stare insieme, non sono accettabili delle imposizioni e quindi che un comune valga più di un altro, quindi ogni comune conterà un voto, potrà esprimere un solo voto per gestire quelli che sono i servizi e la propria collettività. Per quanto riguarda la montagna, che soluzione avete individuato? Per quanto riguarda la montagna, la comunità invece sarà obbligatoria. Per quanto riguarda le funzioni montane, quindi ereditate dalle vecchie comunità montane, a tal proposito stiamo effettuando una ricognizione con gli uffici della direzione Foreste, Montagne della regione, ma anche con l'UNCEM per capire quali ulteriori funzioni potremo girare al territorio per avvicinarle sempre di più a quello che è il territorio, a quello che è la montagna stessa e fare in modo che appunto vengano gestite da là. Crediamo che la montagna debba essere sviluppata e valorizzata, negli anni purtroppo è stata svilita. Oggi dobbiamo invertire quel processo rimettendola al centro dell'agenda, quindi obbligatoria per le funzioni montane e facoltativa anche qui per le funzioni di carattere comunale. Il DDL affronta un ulteriore nodo, l'edilizia scolastica. In che modo? Sull'edilizia scolastica ci troviamo davanti a una situazione veramente disastrosa. Purtroppo le province la seguivano, magari a fatica, ma la seguivano. Con le UTI, se non altro perché abbiamo, nella passata amministrazione, si è portato via tutto il personale che è passato in regione, non c'è più personale che se ne occupa. Oggi dobbiamo prendere provvedimenti d'urgenza, anche perché ci sono tanti soldi fermi in questo momento, quindi l'ipotesi è quella di arrivare a quattro subenti regionali che si occupino di edilizia scolastica, con un commissario e con l'affiancamento del personale della regione in modo da poter smaltire i lavori nel retratto e procedere alla messa in sicurezza del patrimonio scolastico superiore regionale.